All'inizio del nuovo millennio, nessuno sulla Terra pensava che l'attività umana potesse essere osservata così attentamente da civiltà superiori alla nostra. Eppure, dal pianeta Marte, esseri dall'intelletto vasto e spietato, scrutavano la Terra con occhio stile. E mentre gli uomini erano impegnati nella vita di tutti i giorni, qualcuno li studiavano e li analizzavano. Avvicinandosi alla Terra, questi esseri, lentamente indistrupati, urdivano i loro piani contro di noi. Stai cercando di scappare, adesso ti insegno io a scappare. Dov'è mani in te? Tornerò poi. Dopo toccherà anche a te. Dopo toccherà anche a te. noi. E' vero***. E' vero***. E' vero***. E' vero***. No, è più brutto! Ehi, voi! Scusate! Mi dispiace per riferire! Se c'è cosa che sono male, sparali! Prendi questo mutato figlio di punta! E mi avvino! Bastardo spaziale che ha distrutto un vino! Scusate! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.